Ti posso dire una cosa in romanesco? Ma non staremo a fare una cazzata? No, non d'altro canto, qua se non mi invento qualche cosa, se non mi faccio di una fantasia, qua non succede mai niente, non succede. È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinaria, è roba del paese nostro. E se può cantare pure senza voce, basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto, basta la salute in parte le scarpe nove, poi gira tutto il mondo, e mi accompagno da me. E fa la vita meno amara, me so comprato sta chitarra, E qua nel sole scende e muore, mi sento un cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, non serve a fanna serenata, ma solamente affa in maniera, e fammi un sogno a prima sera. Bene, siamo giunti alla settima tabba nazionale, siamo a Roma, la capitale, quindi visto che dedichiamo questo calendario all'Italia, siamo nella vera capitale. qui c'è tutto lo staff, Roberta, Marta, Marco, Elena e Alessandra, ci divertiremo con le romane, quindi in bocca al lupo a tutte, non in bocca a tutti come ho detto ieri, e buona giornata, ciao! Andiamo bene, proprio bene! Tell me baby, what's gone around? Grazie per la visione 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 Grazie per la visione